Sono cinque i posti letto già attivati, destinati ad arrivare a 15 quando sarà conclusa anche la seconda parte dei lavori nell'unità operativa. È stato inaugurato ieri a Chieti, all'interno del Policlinico Santissima Annunziata, il reparto di degenza psichiatrica del nosocomio teatino. Al taglio del nastro sono intervenuti l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, il direttore generale facente funzione della ASL Lanciano Vastochieti, Giulietta Capocasa, e il direttore del Dipartimento di Salute Mentale Massimo Di Gian Antonio, oltre all'arcivescovo di Chieti Vasto Bruno Forti e al rettore dell'Università d'Annunzio Sergio Caputi. Al reparto avranno accesso i pazienti ricoverati su proposta dei medici di medicina generale, dei servizi psichiatrici territoriali, del pronto soccorso e del 118, oltre a quelli sottoposti a TSO. Spazio anche per l'attività terapeutica affidata a tecniche di neuromodulazione cerebrale non invasiva, metodiche utili nel trattamento dei disturbi depressivi dell'umore per l'ansia. A Chieti vengono utilizzate anche nell'ambito di studi sui poli abusi comprendenti alcol, cannabis, eroina, riguardo l'abuso di cocaina e le dipendenze comportamentali. Numerosi anche gli interventi per il trattamento della depressione resistente, i disturbi della condotta alimentare e il disturbo ossessivo compulsivo. L'attivazione delle degenze integra l'assistenza prestata ai pazienti psichiatrici in ambito territoriale, dove il Dipartimento di Salute Mentale è impegnato a contrastare il processo di marginalizzazione dei soggetti in condizioni di fragilità. All'interno del nuovo reparto la presenza del personale medico è assicurata tutti i giorni dalle 8 alle ore 20 e in pronta disponibilità dalle 20 alle 8 compresi i giorni festivi. Un reparto che va a inserirsi in una rete importante nell'ambito del Dipartimento in modo che le persone affette da questi problemi, da questi disturbi, possano avere quella che è una cura complessiva, un'assistenza continuativa che parte dalla degenza nel reparto per poi entrare nei vari dipartimenti dove c'è anche un'assistenza, dove esiste anche una possibilità di borse lavoro e quindi di integrazione sociolavorativa.